Nuova visita da parte del sindaco di Teramo, Gianguino d'Alberto, accompagnato dal vice sindaco Maria Cristina Marrone e dall'assessore Sara Falini nella casa circondariale di Castronio. La finalità è stata preeminentemente di carattere istituzionale, con gli amministratori comunali che prima di una visita tra le sezioni in cui si è divisa la struttura, si sono fermati in riunione con i vertici dell'istituto, al fine di prendere contezza delle problematiche e fare il punto della situazione delle criticità del carcere terramano. Lo avevamo programmato per Natale, poi si è prolungato e siamo arrivati oggi per sentire le necessità del carcere, per migliorare la vita dei detenuti e anche delle persone dell'amministrativo. Abbiamo preso atto che ci sono cose da fare, alcune delle quali non molto difficili da portare a compimento, come per esempio la programmazione di una pensilina all'esterno del carcere da poter utilizzare per i familiari e per coloro che vengono a fare visita anche quando piove e poi soprattutto ci è stata riconfermata la necessità di migliorare la viabilità perché la strada che conduce al carcere è delle serie problematicità. È vero che una parte è di pertinenza della provincia ma una parte è anche di pertinenza del comune, per questo su questo si cercherà di intervenire il prima possibile. La terza questione è anche migliorare il trasporto pubblico perché sul carcere insistono non solo tanti detenuti che sono più di 400 allo stato attuale ma insistono anche i familiari e anche tutto il personale amministrativo. Per cui questa richiesta è arrivata con molta forza, è una richiesta accalorata, una richiesta sentita dal personale, migliorare la viabilità che conduca al carcere. Grazie. Grazie.